Grazie alla collaborazione di tanti fedeli sono stati ultimati i lavori di restauro della chiesa Sant'Elia Profeta a Santa Barbara di Ceraso. I lavori saranno inaugurati e presentati all'intera comunità martedì sera alle ore 18 e 30 con la messa che sarà celebrata dal Vescovo della Diocesi di Valdo della Lucania Ciro Miniero. A presentarci in anteprime i lavori e soprattutto a ringraziare le tante persone che hanno collaborato, il parroco Don Salvatore Monterosso. Allora è stato fatto l'impianto elettrico e a norma, è stato messo a posto un po' le mura che erano un po' maltrattate rispetto a come erano all'inizio dei lavori, quindi c'è stato un intervento molto massiccio vicino ai muri, pitturazione, realizzazione di alcune nicchie che erano già aperte, poi murate, sono state riportate di nuovo alla vista e la pulizia del pavimento che è stata ultimata qualche settimana fa. Stanno facendo ultimi accorgimenti, è stato un lavoro lungo, abbiamo chiuso il 23 di gennaio, però questo lavoro è stato fatto, è un momento che voglio ringraziare tutta la comunità di Santa Barbara per quello che ha fatto, sia economicamente e sia lavorando, perché qui ci sono delle persone che finivano il lavoro alle 5 del pomeriggio e venivano qui e fino alle 9, 9 e mezza, 10 di sera sono stati qui senza percepire una lira, solo con la loro professionalità di muratori, di altro genere di cose hanno realizzato questa chiesa. Quindi oltre alla generosità economica, anche come dire, proprio il contributo personale per realizzare i lavori. Questo è stato una cosa un po' importante, perché alla fine una comunità che vive di un'esperienza anche di lavoro, come hanno fatto loro, significa che è una comunità che cresce, una comunità che tiene all'edificio di culto e veramente hanno dimostrato un grande interesse. Io volevo lasciarti l'elenco di queste persone, ma sono dei nomi, però sono nomi di persone che veramente hanno lavorato tanto. Mi riferisco a Francesco De Luca, a Tiglio Nicoletti, a Marco Firro, che ha fatto tutto l'imbiante elettrico, a Francesco Scaramella, Rocco Cammarano, Bruno Gatto, Camillo Gatto, Luggiero Gliaruso, Pietro Riccio, che mi ha messo a disposizione tutta l'imbalcatura della chiesa e quindi un costo in meno. Luigi Ferolla, Osvaldo Cammarano, Angelo Nicoletti, Claudio Scarano, Gino Sansone, Raffaele Cammarano, Vincenzo Cammarano, Riccardo Cammarano, Alfonso Amato, Vincenzo Scavarelli, Esposito Gerardo e l'architetto che poi aveva fatto il progetto, Remigio Cammarano. Si aggiungono anche altre persone, persone che hanno fatto un percorso verso l'agenda a chiedere anche materialmente, economicamente l'offerta per la chiesa, si aggiungono anche altre persone che hanno pulito. Quindi c'è stato un movimento di persone in questa comunità che da quando abbiamo chiuso fino a questo momento, siamo qui e ci sono ancora due persone che stanno finendo di lavorare, hanno dato il loro contributo e io li ringrazio veramente di cuore.